Ciao da Lorenzo del Papa, benvenuti a Mendiso-Rozza, si apre la 35esima giornata di Liga con il Girona, fresco di qualificazione alla Champions, questa sera ospite di un Alaves già salvo, l'obiettivo di Michel è il secondo posto, adesso ovviamente per giocare la Supercoppa l'anno prossimo. Palla dentro, secondo palo, sblocca subito il Girona con il colpo di testa di Eric Garcia dopo 3 minuti 1-0 per la squadra di Michel. Ecco la palla di Ziegenkopf, un po' ferma la difesa della Laves, salta in alto Eric Garcia, rimane inchiodato o buono, oggi ha il debutto in questa Liga. Compagnavi Lopez, eccolo. Simeone, come dettare la profondità, entra in area, Giuliano Simeone scarico fuori, Guridi, eccolo qua, il pareggio dell'Alaves dura 7 minuti, il vantaggio del Girona, una grande azione della squadra di Luis Garcia, l'assist di Giuliano Simeone e poi arriva il secondo gol in questo campionato di John Guridi, 1-1. Pallone lungo verso il centro, colpo di testa di Carlos V7, dopo il rimbalzo, in due tempi Gasaniga, nega il 2-1. Giuliano Simeone, altro scarico all'indietro per Avi Lopez, si prende il fondo, cross dentro, Gasaniga, pallone fuori, si è salvato il Girona. Palla profonda Gasaniga, la toglie dalla porta sul colpo di testa di Rafa Marin. Dovbic, sponda Savio, campo aperto per il Girona, con Savio che va in conduzione, fino in fondo, Savio, Uono, eccola la prima parata della partita di Uono. All'interno questa volta Zygankov, eccoli due, Zygankov di esterno da Dovbic, controllo e tacco, gran palla per Young Herrera. Sotto il 7, che super azione del Girona, che super assist di Arten Dovbic, arriva il quinto gol in campionato di Young Herrera, che ha concluso alla perfezione, 2-1. Palla stretta per Dovbic, che sente evidentemente Young Herrera, e la mette sul destro col tacco, grande palla. Anche Assisman. Eric, prima sale in conduzione, poi mette in movimento Ivan Martin, può anche andare a guardare la porta, movimento di Dovbic, Ivan Martin va per la porta. Arriva la prima parata nella ripresa di Uono, poi il pallone è rimasto in campo, lo raccoglie di nuovo il portiere della Guinea Equatoriale. Eric, buona palla, Miguel manda nello spazio per Dovbic, controllo Dovbic, contro Uono, Dovbic, Uono, ancora con i piedi di terminante. Zygankov, altra palla interna perfetta, Ivan Martin controllo e scarico velo, Miguel Gutierrez, gira tutto, arriva Savio di esterno. Largo, largo, anche questa, come l'aveva costruita il girono. Zola, Zola, poi si accetta, guarda Zola, zona tiro, Zola, centrale. Pioca Duarte, può mettere un altro pallone dentro, anche questo morbido, anche questo profondo. Tenaglia riesce a spondare, morbido verso il secondo palo, Agi colpisce, colpo di testa! Colpo di testa di John Guridi che fa doppietta e al 99esimo minuto pareggia la partita per Alaves. A Mendy-Sorrozza, 2 a 2! Duarte, crossa, Tenaglia nettamente in posizione regolare. Anticipa Blint, rimette dentro un pallone morbido che Agi spizza e che Guridi di testa indirizza nell'angolo. Alla sinistra di Casaniga, doppietta per Guridi, 2 a 2 dell'Alaves. Non c'è tempo, tutti a casa al girono, si fa riprendere sull'ultimo pallone della partita. Dal colpo di testa di John Guridi e da un'occasione al Barcellona di superarlo in questa 35esima giornata di Liga. Finisce 2 a 2. Finisce 2 a 2. Finisce 2 a 2. Grazie a tutti.